Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella playlist dedicata a Dilan Dog. Oggi voglio parlare con voi del Dilan Dog Old Boy numero 5, che contiene ben due storie, come ogni bimestre, dal titolo Il Giornale dei Misteri e Casa Nova, e riporta anche un trafiletto che dice Un San Valentino rosso sangue. E sì, perché questo numero è stato pensato proprio per essere eletto a San Valentino, quindi mi scuso con voi se lo recensisco una settimana più tardi. Ho preferito a San Valentino far uscire nella mia rubrica Retro Dilan il video dedicato a Golconda, perché usciva ben 31 anni fa, il 14 febbraio del 1990. Quindi a sto giro ho dato preferenza a Golconda, ma voglio parlare con voi comunque di Dilan Dog Old Boy. Approfitto per dirvi che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri di Dilan Dog e anche delle altre playlist, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno, di condividere questo video con tutte le persone che conoscete, che amano Dilan Dog e i fumetti italiani, i fumetti in generale, e di commentare qui sotto con quello che avete fatto a San Valentino e poi, se volete, anche se vi è piaciuto il Dilan Dog. Iscrivetevi anche, tra l'altro, agli altri miei social. Bene, bando alle ciance che ci sono ben due storie di cui parlare. Innanzitutto la prima storia è scritta, sceneggiata da Giuseppe Di Nardo e disegnata sia da Luigi Siniscalchi, per quasi la maggioranza, e anche da Sergio Algozzino. Mentre la seconda storia è stata sceneggiata da Luigi Mignacco ed è stata disegnata da Maurizio Di Vincenzo. Per quanto riguarda la copertina, invece, è sempre disegnata da Raul e Gianluca Cestaro, che, come sempre, un po' ingana, nel senso che non c'entra molto con quello che c'è all'interno. È un richiamo al fatto che è una storia di San Valentino. Peccato perché mi sarebbe piaciuto vedere un Dilan innamorato magari di una non morta a questo giro. Sarebbe stato un po' della morte e dell'amore. La prima storia è fantastica per tutti i riferimenti alla cultura pop e ai numeri bonelli che possiamo trovare all'interno. Per esempio, gli stessi personaggi sono ispirati a personaggi della cultura pop anni Ottanta. Vediamo che la fotografa è ispiratissima a Madonna, alla cantante Madonna. Il nerd Mike, quello che ha inventato la macchina per scoprire gli shapeshifter, è chiaramente Rick Moranis e questo lo dicono anche gli stessi autori. Ma c'è anche Marky Marka, che sarebbe l'editore di questo magazine che si chiama WWW, Weird World Wonder, che è un chiaro riferimento a Ray Wise, il padre di Laura Palmer, che tra l'altro hanno già usato questo personaggio per ispirarsi ai personaggi del mondo bonelli. Ne ho anche parlato in altri miei video. E ci sono anche, proprio nelle pagine che fanno da inserto, che spezzano la storia principale, in queste pagine di questo magazine, ci sono un sacco di riferimenti bonelli. Per esempio c'è un riferimento a Martin Mister, c'è un riferimento a Nathan Never, c'è un riferimento alla Madame Trekolsky. Oltre a, nella storia, vediamo un omaggio al solito veliero di Dylan Dogg, vediamo nel magazine un chiaro riferimento ai Ghostbusters, oltre a vedere delle action figure di E.T. e di Alien nell'ufficio di uno di questi giornalisti, di questo magazine. Quindi è pieno zeppo di chicche da andare a pescare. È un numero che va letto e riletto per essere apprezzato. C'è un buon uso di Groucho, oltre che vedere un omaggio a Groucho Marx nella verità marxiana, quindi un gioco di parole tra Groucho Marx e i marziani, c'è anche un vero e proprio Groucho assistente di Dylan, che lo vediamo all'inizio interagire con la belloccia di turno, ma lo vediamo anche utile alla trama verso il finale, verso il terzo atto, quando viene appunto chiamato da una di queste giornaliste per andare avanti nella trama, per scoprire che fine potrebbe aver fatto Dylan. Quindi mi piace quando Groucho viene utilizzato in modo coscienzioso, non solo come comparsa. Questa è una storia che ci porta volutamente fuori strada, con un sapiente gioco di intreccio, in cui il presente e i flashback si mischiano un pochino, per poi darci il colpo di scena finale. È una storia molto carina, l'avrei messa, piuttosto che appunto nell'Old Boy, quasi quasi l'avrei messa nel magazine, nel prossimo magazine, proprio perché contiene un magazine all'interno della storia, quindi ci sarebbe stato questo richiamo. E l'avrei messa nel magazine anche perché è una storia molto insolita per Dylan Dogg. C'è un elemento mostruoso, c'è un elemento dove il mostro non è il mostro, che poi è quello, è il live motive di Dylan Dogg, però è più una storia, ce la vedo più come una storia di Martin Mister, non tanto di Dylan Dogg. Non c'è tanto l'orrore, l'incubo, quanto la fantascienza, l'avventura. È per questo che mi ricordo un po' una storia di Martin Misterg, poi non sono un grande lettore di Martin Misterg, quindi magari correggetemi se sbaglio, come sempre qui sotto nei commenti. Mentre la seconda storia che ho già letto di Luigi Mignacco e Maurizio Di Vincenzo è un po' più canonica, è più adatta a Dylan, è più adatta a San Valentino, perché la morale finale è tipicamente una morale dilaniata ed è tipicamente una morale moderna, che si sarebbe anche potuta trovare nella storia regolare, però la storia ha un fantastico sapore retro, è una bella storia old boy, quindi mi piace che sia inserita nell'old boy perché è strutturata proprio in questo senso, anche come trama. Purtroppo Graucio è proprio appena accennato, vediamo che fa il suo compitino, apre la porta, fa una battuta e poi sparisce dalla storia. La storia in sé è confusa e non si sa qual è la verità perché la protagonista stessa è confusa e i protagonisti che ci stanno attorno non sanno se sta dicendo la verità o se è pazza. Quello che importa è che sia pazza o che quello che dice sia vero, la sua figura è fondamentale per aiutarci a trovare il villain di questa storia. Villain tra l'altro di tutto rispetto, che non mi sarebbe piaciuto rivedere anche in altre storie, magari anche nella serie regolare, un villain così sarebbe bello averlo in modo cadenzato, costante. Sarebbe molto bello perché è un villain molto interessante. Ricorda visivamente un mix tra Marco Berri, tra il cantante dei Negrita e anche un Diabolic con il pizzetto. Ricorda Diabolic anche in quello che fa, ovvero si cammuffa, lancia tranquillamente i coltelli con una mira infallibile, è molto bravo nell'uso delle armi da taglio, nello stile è tipicamente Diabolic, quindi sarebbe bello avere questa versione cattiva, assassina, per il gusto di farlo, questa versione serial killer di Diabolic, tra le file dei villain di Dylan Dogg. Sarebbe stato molto carino. Spero, chissà, che qualcuno mi ascolti, magari questo nemico finisca nella serie regolare. Proprio perché appunto ricorda molto Diabolic, anche grazie a come è impostata la griglia, questo numero appunto ha un fantastico sapore retro, e quindi è giusto che sia infilato nell'All Boy. Devo dire che a questo giro hanno fatto abbastanza centro, appunto ripeto la prima storia è un po' insolita anche per l'All Boy, però devo dire che grosso modo mi è piaciuto come hanno impostato tutto questo. Più che altro avere un Old Boy bimestrale, io che in teoria, come tutti, preferirei concentrarmi sulla serie regolare, sperando di trovare una qualità superiore nella serie regolare, e nel Color Festa, che ultimamente vola sempre altissimo, a sto punto preferirei un Old Boy, anche questo a carenza trimestrale. Non so voi, fatemelo sapere qui sotto. Il fatto sta che per ora resta bimestrale, a prescindere dai miei desideri, quindi il prossimo Old Boy sarà in edicola il 15 aprile. Qua vediamo una copertina. Sappiamo che ci sono, come sempre, due storie, una è Gli Esorcisti e una è Il Mondo Capovolto, una delle due storie è disegnata da Corrado Roy, quindi questo mi può anche un pochino incuriosire, mi incuriosisce anche questa copertina che cita un po' Cthulhu, che cita un po' quei tipici locali americani, quelle tavole calde americane, di cui c'è anche un dipinto che non mi viene in mente in questo momento il nome, mi può anche ispirare, quindi ad aprile molto probabilmente lo prenderò ancora, ne farò ancora la recensione. Una cosa che davvero non si può vedere, è davvero orrenda, è questo, ragazzi. Queste faccine, dato che, se notate negli Old Boy, in ogni trafiletto c'è, in ogni numero c'è un trafiletto laterale giallo con una scritta. Qua non sapevano cosa scrivere e hanno messo degli smile orrifici. Ora, a meno che non ci siano dentro degli adesivi, che comunque chi se ne frega, però a meno che non ci siano dentro degli adesivi con questi smile, non ha davvero senso avere questi. Cioè, piuttosto, davvero, non mettetelo, non mettetelo questo trafiletto. È obbligatorio. Chiedo agli editori, ai disegnatori, alle persone che stampano, che mi seguono, che magari io non me ne intendo. È obbligatorio mettere quel trafiletto? Perché davvero non si può vedere, è un pugno in un occhio. Chiusa la polemica sul prossimo numero, ne parleremo tra due mesi, vedremo, magari tra due mesi sistemeranno, chi lo sa, la strada è lunga. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questo video. Come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video e vi consiglio di guardare anche le altre playlist. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.